Stiamo vedendo un po' che i giocatori stanno soffrendo, diciamo, l'importanza della partita, ma tra qualche minuto sicuramente ci farà una giocata dove i giocatori si libereranno. E' subito il gol! Eccola qui! Valerio Spinelli ha previsto tutto! L'uscita di Imbro, Jokan Vado e Pinkins in angolo! Ancora una volta! Una tripla della Gimova! Due volte il ferro, gli dicevi ma... Da quest'altra parte Pinkins fa saltare a vuoto già... Ok! Cruz! Peckins! Tanto da tre, ma con aggiustamenti si potrebbe andare a riempire l'area. Assolutamente sì, ma dando la palla dentro puoi creare anche tantissimo spazio per i tiratori fuori. Ancora una volta Cruz-Pinkins! Angolo rossato, il blocco di Pinkins che taglia a strada lui... Peckins! Fa sembrare tutto facilissimo! Sì... Ficcio la scuola! Sì... Ficcio la scuola!